Domani sera alle ore 19 al Centro Pastorale San Giuseppe la presentazione del primo libro del professore Giuseppe Noschese che parlerà della riforma della Curia. Sì, domani sera presentiamo il mio primo libro, La Predicata Evangelium, una riforma pastorale, missionaria e sinodale della Curia Romana. Una riforma voluta fortemente da Papa Francesco nel 2022 e che è andata in vigore solo il 5 giugno del 2022. Insieme con me domani ci sarà ovviamente Don Sabatino, ma ci sarà anche la sua eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, il professor Gaetano De Simone che ha curato anche la prefazione del testo, un docente di diritto canonico, e poi la professoressa Lorella Parente, docente di ecclesiologia e mariologia presto l'Istituto Superiore di Scienze Legiose di Salerno. Don Sabatino, al Centro Pastorale San Giuseppe ancora una volta un convegno interessantissimo? Al Centro Pastorale San Giuseppe che si appresta a celebrare il 19 prossimo il suo terzo compleanno di nascita. Ecco, devo dire che questo è l'ultimo della mia gestione perché io poi finirò a fine mese e mi piace finire proprio con la presentazione del libro di Giuseppe perché quando io vennei 13 anni fa qui a Santa Margherita Giuseppe era un ragazzino di scuola media e abbiamo il primo presepe, suonava il flauto. Adesso è bello che vado via dopo 13 anni e Giuseppe insegna religione, no? E quindi dopo aver vissuto e che continuo a vivere ho l'esperienza pastorale in parrocchia che è stata la base della sua crescita del suo studio all'Istituto di Scienze Religiose e oggi della sua testimonianza come professore. Ecco, la ricordiamo l'appuntamento. Domani qui al Centro Pastorale nell'auditorium del Centro Pastorale alle ore 19. alle ore 19. Grazie a tutti.